amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi voglio fare una puntata che non c'entra niente con le lavorazioni sulle varie macchine ma è una riflessione che mi è venuta diciamo spontanea vedendo o leggendo alcuni dati o leggendo alcune notizie che riguardano appunto la porsche casa per la quale io sono assolutamente affezionato anche perché ho una una porsche d'epoca per cui per me la porsche è una vettura assolutamente che rimane nel mio cuore quello che mi è sembrato strano è che la porsche da ormai tantissimi anni ha degli incrementi di fatturato esponenziali cioè ha creato una gamma di vetture veramente a 360 gradi quindi partendo dalla dalle ultime parliamo delle ultime dalla 718 dalla caiman dal 911 per forza dalla macan e dalla cayenne e non dimentichiamoci anche della della vettura della versione della versione completamente elettrica quindi ha soddisfatto diciamo una platea a 360 gradi facendo degli utili veramente spaventosi cioè dall'epoca della 996 ha sempre avuto incrementi di fatturato sempre sempre inattivo e sempre più esponenziali quindi una casa che assolutamente da un punto di vista economico gestionale tanto di cappello magari avessimo casi di questo genere in italia purtroppo non ce le abbiamo quello che mi è sembrato strano sono le strategie diciamo i piani a medio lungo termine che sono stati pubblicati da porsche che mi hanno lasciato veramente molto molto perplesso e entro subito nel merito della questione la tendenza è quella di elettrificare cioè di andare verso l'elettrico in maniera molto più marcata rispetto a tutta quasi tutti gli altri quasi tutte le altre marche automobilistici e questo mi suona veramente strano voi sapete la mia diciamo il mio scetticismo sul sul discorso elettrico non entro di nuovo nel merito però siamo ancora in una fase in cui tutti i dati di vendita vedono le macchine elettrici in calo uno dei dati macroeconomici che porsche può vedere è il lancio da quando hanno fatto il lancio della tycan che poi è la versione full elettrica non va assolutamente bene cioè non hanno raggiunti i risultati che si erano prefissati e l'errore grosso che stanno facendo è pianificare praticamente adesso nei lanci delle nuove macchine le due vetture che stanno tirando lasciando perdonate una 911 che è un caso un po' a parte le due vetture che stanno tirando sono l'entry level che è la 718 che diciamo una macchina tipo la box è un motore centrale ed è un entry level che sta venendo benissimo la pianificazione è quella di farla di farla full elettrica così come ancora più strano e è fare full elettrica la macan che porta dei fatturati in termini di risultati economici veramente strabilianti alla macchina penso sia il modello che porta più fatturato non ho diciamo le diciamo la 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 lo split per singoli modelli comunque se non è il primo è subito dopo la 911 e anche in quel caso renderlo full elettrica cioè completamente cancellare diciamo anche a livello di ibrido completamente cancellare una qualunque pervenza di motore termico secondo me in questo momento è un grossissimo errore per cui per il momento rimarranno parzialmente termiche la cayenne e la 911 cioè non so a livello di fatturato quale quale possono essere i numeri io sono abbastanza scettico perché vedo appunto quello che succede non solo in casa porsche ma cosa stanno facendo tutte le altre case che negli ultimi sei mesi sei sette mesi quasi tutte hanno cambiato strategia stanno addirittura rintroducendo il diesel stanno rintroducendo vetture a benzina quindi è solo loro che vanno in controtendenza o sono loro che hanno delle informazioni sono i più furbi dell'universo oppure stavolta hanno preso un drizzone che prima o poi dovranno correggere era un appunto che appunto volevo fare perché mi sembra una stranezza proprio una specie di karakiri che una casa come por che ho sempre stimato e alla quale sono assolutamente affezionato mi ha mi ha lasciato la mano in bocca mi è lasciato molto perplesso vedremo nei prossimi anni se avranno ragione loro oppure come nel caso di tante altre case automobilistiche che sono corso stanno correndo i ripari perché ha capito che il discorso elettrico così come è stato impostato o chiudono definitivamente non viene venduto cioè basta guardare i dati di vendita se non ci sono gli incentivi statali le macchine elettriche non le vuole nessuno le famose lavatrici con le ruote non non sono incongruenti stanno diciamo sono pruriginose non 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 incontrano il gusto del del non solo il mio che vabbè quello fa poco testo ma non incontrano il gusto di nessuno che voglia usare la macchina cioè quasi tutti tranne escludendo i tesla boy che ovviamente hanno le loro ragioni tutti gli altri è palese che il progetto elettrico non avrà non avrà un granché di futuro io spero per gli altri di di magari mi potrò anche sbagliare per il momento i dati mi danno assolutamente ragione volevo appunto fare questo inciso su una casa come porsche che mi sembrava interessante veicolare queste informazioni sul canale per il momento è tutto vi chiedo come al solito di cliccare di mettere un like che è gratuito di cliccare sulla campanella per iscrivervi al canale e rimanere sempre informati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima